Thailandia paese bellissimo, clima tropicale temperato, il cambio è talmente favorevole che volendo potresti vivere in un bungalow fatto di gamberi. Ho fatto numerosi giri, sono andato a visitare una valle piena di templi, bellissima. Ho incontrato lì un monaco buddista, persona tranquillissima, super calma. Era lui a fare i complimenti a me perché in quanto turista avevo girato metà del mondo per finire a visitare la sua terra. E continuavo a chiedermi ma com'è possibile che qua tutti siano così tranquilli, così pacifici? Ed ero all'interno del tempio che stavo camminando e a un certo punto ho tirato sulla testa e c'era la statua del loro dio. Che non so se lo sapete ma è un ciccione dorato che ti guarda sorridendo mentre è sdraiato. E sembra dirti è troppo figo, dovessi provare anche tu. E forse se il tuo dio è un ciccione sorridente dorato e non è un tizio inchiodato che dice è colpa tua, è tutta colpa tua, potrebbe influire sulle dinamiche. Ho continuato il mio giro e sono arrivato, non lo sapevo tra l'altro, in un'area di questo templio dedicata all'animale sacro del luogo. Che nel caso erano le scimmie. Bellissimi animaletti che tutti quanti adoriamo e anch'io adoravo. All'ingresso di quest'area c'è un cartello più o meno grosso come questo palco con scritto in 25 lingue diverse Turista, attento, non provocare o infastidire in alcun modo la scimmia poiché la scimmia non ha paura di niente e di nessuno. Giuro che tu dici, cazzo la Proloco ha messo un tantinello le mani avanti con questa questione delle scimmie. Si vede che non sono assicurabili le scimmie da questa parte, ma cosa mai potrà accadermi incontrando questi graziosi animaletti. Ora, alla scimmia non importa niente, soprattutto di te, non gli importa assolutamente un cazzo, perché vive per due sole cose, mangiare e rubare. E le due cose molto spesso si materializzano assieme, nello stesso oggetto che è tuo, tra l'altro. All'ingresso ti vendono dei pezzettini di pannocchia che puoi tirare alle scimmiette per farle avvicinare e per farci delle foto. Ora, il mio piano era scimmietta carina e coccolosa, vicina, foto, Instagram, scopo. Ok? Lineare, molto chiaro come cosa. Quindi compro questi pezzetti di pannocchia e le tiro a una scimmietta per cercare di farla avvicinare. Una scimmiettina carina, coccolosa, che però non ha ben capito che io ho girato metà del mondo per finire a dare da mangiare a lei. E quindi non si avvicina manco per il cazzo. Prova a tirargli un altro pezzo di pannocchia, prende un minimo di fiducia, quando si avvicina e sta per prenderla, dietro di lei si materializza un'altra scimmia grossa 50 volte tanto, che, boom, le dà un ceffone, ruba il pezzo di pannocchia e scappa via. La scimmietta, quando si rialza da terra, la prima cosa che fa è fissare me negli occhi. Come dire, strozzo, è arrivato da dietro, potevi avvisarmi, tu l'hai visto benissimo, ti odio, la mia vita è una merda. Che al momento non sai che cosa dire, dico, guarda, mi spiace scimmietta. Le tiro un altro pezzo di pannocchia, spaventata, scappa via. Paura del cibo, ho già ucciso una scimmia in cinque minuti che sono là dentro praticamente. Ma ancora non ho la mia foto, soprattutto, quindi continuo e incontro un sacco di scimmie brutte, storte, vecchie, fino a che la vedo, bellissimo, una scimmiettina piccola, carina, tutta super coccolosa, che è lì impegnata in una delle attività tipiche di questo bellissimo genere animale. Si sta lavando le palle in una pozzanghera, proprio con grosso piacere. Pozzanghera dalla quale sta anche bevendo, contemporaneamente. Ve lo giuro, ve lo giuro. Ma capisci che sono bestie intelligenti perché hanno imparato ad alternare il ritmo, ok? Cioè io mi vedo più o meno tre milioni di anni fa, una di queste scimmie, che era lì che si stava bevendo il suo sciacquo di palle, come aveva fatto per tutta la vita, come tutti i suoi antenati avevano fatto per tutta l'eternità prima di lei, ed era lì che diceva, c'è qualcosa che mi sfugge. La vita può essere meglio. Ma cosa... Ah! Ah! Avete capito? Il fuoco, la ruota, la bomba atomica, noi questa sera a registrare. Avanti con l'evoluzione umana, ragazzi. Spingiamo sempre avanti. Spingiamo sempre avanti.